Allora, lasciami dire una cosa, questa amministrazione, la nostra amministrazione ha realizzato circa 100 km di piste ciclabili su 300 che sono presenti, perché abbiamo fatto un lavoro eccezionale, forse gli unici, perché le altre 200 km li hanno realizzati negli ultimi vent'anni. Detto questo, sicuramente alcune piste ciclabili che non funzionano, ma fanno parte di un lavoro enorme che va comunque sottolineato e valorizzato, questo dobbiamo dirlo a chi ci ascolta, perché quando tu lavori tanto e produci tanto, poi vengono fuori anche quelle che non funzionano. Per cui lì dobbiamo sicuramente ragionare e recuperarle. Poi a me viene da sorridere, perché tutti vogliono una città non caotica, tutti parlano di troppe macchine, poi quando fai le piste ciclabili tutti le attaccano in qualche modo. Serviva sicuramente un colpo di coda, qualcuno che prendesse in mano il toro per le corna, come si dice, e noi l'abbiamo fatto con la nostra amministrazione. Abbiamo lasciato, finanziato, circa 150 km di piste ciclabili col PNRR. Qualchieri realizzerà, perché noi l'abbiamo messa a bilancio con i soldi dell'Europa. Poi tutte queste persone viene da sorridere, perché quelli che poi attaccano le piste ciclabili, che comunque non rilevano quello che ti sto dicendo, ovvero che c'è un lavoro straordinario con qualche problemino da risolvere, sono quelli che quando vanno in viaggio nel nord Europa tornano dicendo quant'è bella l'Europa. Poi quando sono qui non le vogliono. Allora, delle due l'una. Io dico che il lavoro è stato un lavoro straordinario da parte della nostra amministrazione, ci sono dei problemi, risolviamo quelli da risolvere in quelle piste ciclabili che comunque hanno problemi, dopodiché valorizziamo e continuiamo a lavorare in questo modo. Perché non si può parlare di Europa, di capitale europee, di sostenibilità, di alternative alla macchina, quando poi dopo si sta solo a criticare piste ciclabili tutto il giorno. Detto questo dico un'altra cosa molto importante e concludo Luca, che secondo me, a mio avviso, c'è anche una cultura da cambiare in questa città. Intanto dobbiamo sicuramente migliorare i mezzi pubblici, perché prendere la bicicletta poi spesso, voglio dire, deve anche avere interconnessioni nella città che sono importanti e questo non c'è dubbio. E su questo tutte le amministrazioni fino ad adesso hanno avuto grandi risultati. Dopodiché anche culturalmente uno sforzo facciamolo, perché prendiamo la macchina anche per andare al supermercato. Noi abbiamo realizzato una pista ciclabile sul mare di Roma, rendendo tutto il lungomare ciclabile, hai parlato di Ostia prima, ci hanno fatto la guerra. Per una pista ciclabile sul lungomare, quando tutti si è capitato nel mondo, sul lungomare ci sono le ciclabili. Perché? Perché abbiamo fatto una fila di parcheggi davanti al mare. Tutti vogliono parcheggiare la loro macchina a cinque meriti al mare. Quando vai al mare, in altre realtà bellissime, ti fanno lasciare la macchina a cinque chilometri, o prendi la navetta o ti fanno fare il percorso a piedi. Però la guerra ai ciclabili l'hanno fatta in quel caso. Però veramente ci sono delle ciclabili che vanno comunque ripensate completamente o no? C'è culturalmente, da parte anche di una classe politica, un problema legato al fatto che non si riconosce la necessità di cambiare abitudini in questa città e andare anche contro alcune realtà che comunque la contrastano. Io capisco benissimo che i balneari a Ostia volevano che le persone parcheggiassero la macchina davanti al mare. Ma il modello che noi dovremmo proporre è un modello differente, dove la macchina si lascia da un'altra parte, ti fai la passeggiata a piedi e passi anche davanti ai negozi e spendi magari. Perché così non alimenti solo l'economia del balneare, ma alimenti anche l'economia di quello che c'è al negozio davanti al mare, che magari paga anche dieci volte di più di affitto. Molto chiaro, molto chiaro. Per avere un bar, una pizzeria o un negozio dove si vende qualcosa. Ci serve anche una logica in questo, perché potrebbe essere giusto lo che dice, ma secondo me i mezzi pubblici e infrastrutture vengono prima e dopo le ciclabili. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.